ciao ci troviamo nella sala più grande della palestra universo di pistoia all'interno di questa sala potrai trovare svariati tipi di corsi alcuni molto dinamici altri più di tonificazione alcuni ovviamente anche coreografici mi sto riferendo alla tonificazione quella pochino più classica quindi il total body fatta con piccoli attrezzi a corpo libero e cercando di allenare ovviamente tutto il corpo oppure un corso come quello del flex and tone che ti permetterà attraverso anche un minimo di coreografia di tonificare e di sbloccare mobilitare tutte le tue articolazioni assolutamente in maniera controllata con un livello adatto a tutti e molto divertente poi un corso divertente ancora di più perché dinamico più del flex and tone è assolutamente il jump un corso che viene fatto all'interno della sala su degli appositi tappetini elastici coreografato divertente soprattutto per le ragazze un po più giovani ma adattissimo anche alle alle donne comunque alle ragazze più adulte perché perché aiuta molto anche il sistema linfatico quindi avrai ottimi risultati a livello di tonificazione e anche di estetica quindi di miglioramento del tuo corpo poi se hai avuto una giornata pesante vuoi scaricare lo stress perché non provare la fitbox abbiamo ovviamente i sacchi appositi che disponiamo nelle sale e l'istruttore ti guiderà attraverso un mix di colpi di arti marziali e di fitness in una coreografia che è sia tonificante sia molto molto allenante a livello metabolico poi possiamo provare a passare anche attraverso altri tipi di corsi che possono essere delle tonificazioni più mirate quindi un gag gambe addome glutei oppure un momento dedicato al core quindi tutto ciò che riguarda gli addominali e i muscoli stabilizzatori che sai essere molto importanti poi per lavorare a 360 gradi con tutto il corpo hai passione maggiormente per le coreografie e la musica allora qui ti possiamo offrire il corso di zumba piuttosto che il corso di glam dance abbiamo anche delle tonificazioni più mirate ti ho detto il gag per la parte inferiore del corpo ma ne abbiamo uno apposito anche per la parte superiore quindi potresti tranquillamente dedicarti un giorno a allenare la parte superiore il giorno magari successivo quando vuoi tu la parte inferiore e detto questo cos'altro possiamo fare in questa sala facciamo anche comunque dei corsi di arti marziali in alcune serate dedicate sia ai neofiti sia a chi invece è già allenato e vuole mantenersi in forma e non perdere la tecnica ormai acquisita quindi noi ti aspettiamo qui abbiamo veramente una gran varietà di corsi basta solamente scegliere e poi è già usata il pezzi abbiamo appestato la sala anche con questo computer come vedi perché Perché il computer ci permette di mandare direttamente le immagini e di permettere alle persone di accedere sulla piattaforma Zoom, ovvero potrai tranquillamente continuare a seguire i corsi anche da casa, esattamente come magari hai fatto in questo momento di chiusura, oppure semplicemente se sei una persona che adora lavorare da casa o perché comunque gli piace o perché i suoi tempi gli permettono di poter fare solamente questo, con noi potrai assolutamente farlo, potrai scegliere di venire a allenarti con noi in presenza o di seguirci comodamente da casa e questo ti darà il vantaggio sia di poter scegliere comunque anche l'ambiente in cui preferisci allenarti e di non perdere comunque il contatto né con i tuoi istruttori preferiti né con comunque i tuoi compagni di corso perché che tu sia comodamente collegato a casa tramite Zoom o che tu sia qui assolutamente insieme a noi allenarti in presenza avrai comunque modo di interagire sia online sia appunto in presenza con tutti i partecipanti e con l'istruttore che ovviamente avrà un occhio di riguardo per correggerti esattamente come ha attenzione nel correggere chi è in presenza. Ora ci troviamo nella sala un pochino più piccolina che è quella dedicata alle attività olistiche. Che cosa significa? Significa che all'interno di questa sala potrai venire a svolgere con i nostri istruttori i corsi di yoga o di pilates e anche di callanetica che è comunque un'attività adatta a tutti che unisce due tipi di contrazione l'isotonica e l'isometrica e ti permette comunque di tonificare e rinforzare il tuo corpo. In aggiunta anche corsi di corpo libero appunto che seguono comunque le regole allenanti del fitness ma ti permettono di allenarti esclusivamente col tuo carico corporeo quindi anche di regolare l'intensità da dare ai movimenti. Come vedete anche in questa sala abbiamo montato comunque un mega schermo che ci permetterà di proporvi corsi sia in presenza sia tranquillamente da casa vostra. Quindi ciascuno di voi potrà scegliere come seguire i nostri corsi con un istruttore che così come correggerà le persone presenti ovviamente correggerà anche chi è a casa e in questa maniera non perdervi nemmeno una lezione o comunque scegliere la modalità che per voi in questo momento è più consona per continuare ad allenarti insieme a noi. Cosa dirvi? All'interno di questa sala possono venire svolti anche dei piccoli corsi di termificazione in piccoli gruppi e quindi ovviamente vengono replicate le stesse dinamiche, un corpo libero piuttosto che l'ausilio di piccoli attrezzi per aumentare l'intensità.